C'è per paparino Che è? Quando ci vi chiesti? Perché? Non va mica bene? Eh ma non mi avevi mica detto di... Ma come? Non te lo dissi, Marta? Sì, che era invalido, ma... Oh, non fa nessun caso, essere invalido non è un disonore E perché? Non posso portare canta anch'io? Andiamo a piacere la canta Ma scelta, andiamo, hai capito che uomo che è? Venite a vedere come abbiamo sistemato il laboratorio di sartoria Bello, il laboratorio di sartoria Mi fa piacere questa buona attività Ho fatto il possibile Potresti anche diventare una grande sarta di moda È vero, Marta, povera sorella mia, il complesso dei baffi Che pensi alla manina di papà? Ma com'è stato? Uno scherzo tra amici, uno puntò il fucile Lui disse fermo e gli partì la mano Così scherzando Andiamo su a vedere questa nuova tenazza, su!